Allora abbiamo il primo concorrente, concorrente numero uno, abbiamo un nome e un cognome, lo abbiamo? Bertolasco, allora abbiamo il signor Cesare Bertonasco che l'ho convinto io ad andare a piedi al trattore, ok? Ok? Abbiamo un Landini che è un 6830 del 1979, 9000 ore, mai avuto un problema, neanche il padrone ne ha mai avuti, eh? Allora diamo conto alla rovescia, come si fa nelle partenze, 3, 2, 1, vai! Allora! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.